Siamo al lavoro, ci piacerebbe farla. Così ci risponde l'assessore alla giostra del comune di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini, sulla terza giostra del Saracino del 2016 dedicata al Giubileo della Misericordia. La data potrebbe essere il 27 di agosto. L'amministrazione comunale non conferma e non smentisce che sia stata presa una qualsiasi decisione. Nelle ultime ore si sarebbe tenuto un incontro tra i rettori e l'amministrazione comunale con all'ordine del giorno anche questo argomento. Alcuni dei quattro rettori si sono già espressi, come Alessandro Pommella che ha pubblicato una dichiarazione nel sito del quartiere. La decisione, dice, se correre o meno la terza giostra è esclusiva competenza del Consiglio Comunale. L'ultima e decisiva parola spetta a loro. Io, in qualità di rettore e componente dell'istituzione, sento il dovere di sottolineare che sin dal primo momento ho detto fortemente no alla terza giostra. Secondo me ci sono enormi problemi logistici e organizzativi. I costi di gestione per una terza edizione sarebbero molto alti e non sarebbe neppure un buon veicolo pubblicitario, a meno che non ci sia una diretta RAI o ospiti illustri. Pommella, come del resto gli altri tre rettori, manifesta poi la piena disponibilità alla collaborazione con l'amministrazione comunale nel caso in cui si decida per il sì. Un altro incontro ci sarebbe stato sempre nelle ultime ore anche tra il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l'arcivescovo Riccardo Fontana. Sull'argomento terza giostra, Fontana ribadisce la posizione di qualche tempo fa, ovvero che non c'è nulla in contrario ma che non è certo la chiesa retina a dover decidere definitivamente.